benti ragazzi sono mario non ti sapessimo video raga giudici video commento siamo sull'harmstel gold race una appunto una corsa che è finita 5 10 minuti fa comunque subito un bel like mi raccomando raga a vincere questa corsa con un finale pazzesco pazzesco nel senso che un finale trilling ma comunque ha vinto vood vaga night con pochissimi millimetri su pitcock ma comunque una corsa spettacolare un finale ancora di più per tante ragioni subito un bel like iscriviti al canale se non siete iscritti da mente se è tutto bella